Sentire un po' che cosa ci raccontavano, che novità ci sono, speriamo che si sviluppa questo sistema di incenerimento perché lo trovo molto molto utile, l'importante è che la cosa sia seguita molto attentamente e che non si inquini. L'impianto AISA di San Zeno ha aperto le sue porte alla cittadinanza per un incontro pubblico, ovviamente per parlare degli sviluppi e del futuro dello stesso impianto. Prima era un inceneritore e poi è diventata una centrale di recupero in R1, quindi un qualcosa di estremamente diverso, di molto più raffinato, che guarda alla lavorazione di tutte quelle che sono le matrici riciclabili. Dato che gli obiettivi di raccolta differenziata di qui ai prossimi anni prevedono proprio un grosso incremento di questi quantitativi di rifiuti differenziati, questa centrale ha presentato un progetto che oggi viene in una sorta di open day presentato a tutta la cittadinanza di implementazione delle linee di lavorazione delle materie organiche riciclabili, con l'aggiunta di un biodigestore che potrà estrarre anche del biometano da queste matrici compostabili. Modernizzando tutta questa linea, cosa succede? Succede che come quando si passa da un euro 4 a un ibrido si ha un miglioramento sotto tutti i profili, compreso quello delle emissioni che verranno con questo upgrade abbattute del 50%. Nella pratica quanti rifiuti in più verranno trattati sia della parte secca che della parte umida? Allora, noi si prevede un incremento, abbiamo chiesto un incremento di 90.000 tonnellate, pari cioè passando così da 100.000 a 190.000 tonnellate, che è il totale dei rifiuti prodotti dalla provincia di Arezzo. Ed è sempre nell'ottica dello zero spreco che nel comune di Fogliano della Chiana arriveranno le compostiere. Per tutti i sabati di marzo faremo il compost day, quindi daremo concessione ad uso gratuito a tutti i cittadini che faranno richiesta una compostiera. Questo aiuterà ovviamente sia l'ambiente, sia ci sarà anche un piccolo sconto nella tariffa perché chi utilizza e utilizzerà bene la compostiera avrà un 10% di riduzione nella parte variabile della tariffa. È una piccola cosa, però è un segnale che è giusto che paghi meno chi rispetta l'ambiente, chi ricicla.